L'assessore Tosetto mi chiamava e mi dice cosa facciamo rito in questo momento di emergenza, abbiamo bisogno di fondi. Era il tempo dell'emergenza sanitaria Covid-19, mancavano dispositivi, le famiglie chiusi in casa per il lockdown non lavoravano, sussidi e cassa integrazione faticavano ad arrivare. Un'emergenza nell'emergenza e come sempre in questi casi l'unione fa la forza e la solidarietà diventa protagonista con Vicenza Solidale Covid-19 e il via ad un crowdfunding, una raccolta fondi. Abbiamo superato i 55.000 euro, 241 donatori, si è visto un po' di tutto dal cittadino all'industria, all'associazione di volontariato, ai presidenti di associazioni, una donazione spontanea che aiuta per poter acquistare beni di prima necessità e dispositivi di sicurezza per i volontari. Di questi 55.000 euro ne sono stati già spesi oltre 23.000 per acquistare beni di prima necessità, raccolta fondi che ha consentito di realizzare e consegnare le borse della spesa a famiglie vicentine. Dall'inizio del servizio sono stati oltre 800 i nuclei familiari che hanno avuto bisogno e a tutt'oggi sono ancora 756 quelle che ne usufruiscono. L'emergenza sanitaria sarà finita ma l'emergenza sociale purtroppo è ancora presente e in modo anche pesante su alcune fasce della nostra popolazione. Un appello proprio ai cittadini che se vogliono possono ancora continuare a donare del cibo, degli alimenti, semplicemente anche un pacco di pasta, una scatola di sugo, insomma anche un prodotto a lunga conservazione oppure se vogliono in maniera molto semplice continuare a donarci anche 10 euro perché con quelli poi sicuramente andranno a persone che hanno bisogno.